Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Topolino3557 è uscito oggi, mi è arrivato in abbonamento puntuale, oggi mercoledì, quindi ho avuto modo di leggerlo e ve lo porto subito sul canale. È un numero, un buon numero, mi è piaciuto, anche se non ho trovato nessun picco particolare, nemmeno in questo caso. Comunque è un numero che assolutamente è apprezzabile, di buon livello sicuramente. Allora, come vi dicevo, è il 3557 e intanto ha una particolarità nella copertina, ossia nel fatto che i protagonisti non siano quelli soliti, ossia Topolino, Paperino o Paperone, bensì è dedicata alle GM. Ma le Giovanni Marmotte è il caso specifico, qui qua qua e Newton, che sono i protagonisti di questa saga, legata alla ricerca di alcune pietre insieme al miliardario Tycoon, e che si va a concludere in questa settimana, ossia la saga della pietra che è parlante sostanzialmente. Quindi è interessante che comunque una copertina sia dedicata a dei personaggi non principali, perché addirittura qui qua non sono le viste i nipotini, ma i di Giovanni Marmotte. È un disegno di Giuseppe Facciotto, a memoria non mi ricordo di aver visto le sue copertine, o comunque di non averne trovate da quando porto il Topolino in Edito sul canale. Mi piace molto perché è un disegno, diciamo, totale, ossia abbiamo uno sfondo, mi dà un'idea proprio di essere qualcosa che si espande, non racchiuso all'interno della, diciamo, della dimensione della cover. Poi abbiamo, vabbè, la pubblicità di Paperinic, del mensile Paperinic, e poi Chiari che tira a Paperopoli Silvia Ziche, dedicato anche in questo caso alle nostre Giovanni Marmotte, con l'invenzione di Newton, che si rivelano spesso disastrose. Bertani, nel redazionale, ci racconta dei ritorni da Octopia che avremo dalla prossima settimana, quindi molto importanti, anche perché ci permetterà di capire che fine abbia fatto gamba di legno, e poi ci anticipa anche altre cose, che però scopriremo nel corso del tempo, e poi due parole sul numero di questa settimana, tra cui possiamo ricordare in modo particolare anche la storia di apertura dell'albo, Topolino, rumori nel silenzio, di cui adesso vi vado a parlare. Non dico altro sul redazionale, perché comunque è interessante leggere sia questo che anche il prossimo numero, ma in generale tutti i numeri di Topolino. Copertina di Giuseppe Facciotto in bianco, mi è piaciuta, sinceramente mi è piaciuta molto questa copertina, e poi iniziamo con sebrirsi e rubriche, mini laterale sorridente, quindi relativo al disegno della nostra Topolina, ad opere Davide Cesarello, quindi continuo questa rubrica in cui viene spiegato come disegnare i personaggi, l'agenda della settimana torna al Paniturre nel 2024, vi dirò poi in che città, che risate giochi, Fantomius colpisce ancora, torna una raccolta di storie dell'esordio di Fantomius, poi nella Cina imperiale è rocce spettacolari, quindi continua il redazionale sulle costruzioni rocciose, anche artefatti dell'uomo, e poi qualcosa sulla Cina, perché poi sarà protagonista dell'ultima parte della saga delle giovani marmotte. Poi che fine ha fatto Gamba di legno, che appunto ci anticipa un po' la terza stagione di Dactopia. E infine Occhi di Falco e non solo, il mondo attraverso gli sguardi degli animali. Per quanto riguarda le storie, Topolino in Rumori nel silenzio, episodio 1 di 2 e 2 di 2, quindi entrambi in questo albo di Pietro Zemelo, disegni e chine di Mattia Surros, colori di Putrashan Bimbin Abdi Jalil, prima e seconda parte appunto, Archimede e l'incomparabile Vanni, di Francesco Vacca, disegni e chine di Giovanni Preziosi, colori dell'aria castagna, poi Amelia e la rosa olezzante, storie di Giovanni De Feo, disegni e chine di Federico Franzò e colori di Chiana Bonacini, e infine la conclusione della saga, le giovani marmotte e la pietra e la fortuna, episodio 4 di 4, di Bruno Enna ai testi, disegni e chine di Sandro Perini e colori di Diana Laudando. Allora, vi dicevo che non c'è una storia che mi ha particolarmente esaltato, non nel senso che non siano belle, ma che mi sia rimasta impressa in maniera definitiva, però sono sicuramente tutte di ottimo livello, a cominciare dalla prima, in cui troviamo un topolino in una veste un po' particolare, perché il nostro topo con il suo caro amico Pippo vanno in vacanza in un posto in montagna, in una casa abbastanza isolata, per passare del tempo a guardare film chiusi in casa, insomma, a stare in mezzo alla natura. Però poi cosa succede? La casa si trova fuori da questo paese presso cui si recano, e quindi Topolino viene accompagnato dalla proprietaria, mentre Pippo rimane in città, nel paesino, perché vorrebbe acquistare le provviste per cominciare la sua maratona di film. Poi però ci sarà una tormenta di neve, e quindi Pippo non riuscirà a raggiungere Topolino. E quindi il nostro amico passerà due notti da solo all'interno di questa abitazione, in cui ci sono dei rumori, e pare che ci sia qualcuno. Quindi il suco della storia è questo. Poi ovviamente non vi svelo tutto il resto, è una storia lunga ma che si legge molto bene, ed è particolare perché ci mostra un Topolino, comunque vittima degli eventi, e anche spaventato. Di solito lui è molto razionale, è un personaggio, non dico superheroistico, però che non cede sicuramente alle paure, agli istinti primari, come fa per esempio Paperino. Quindi è molto interessante questo aspetto. È una bella storia, un'ottima storia, che è lunga perché in due tempi, ma che si legge molto bene, scorre. Molto belli disegni, soprattutto in queste tavole in cui troviamo il contorno nero, perché sottolinea evidentemente che ci troviamo la notte, e i particolari, oltre al disegno dei personaggi, che poi ognuno ha il proprio stile, mi piace questo, però è molto bello proprio la dovizia dei particolari. Quindi complimenti al disegnatore e al colorista. Quindi a Mattia Surroz, i colori, voglio rivederlo perché, a Putra Shanbibin Abdi Jalil, complimenti a entrambi, ovviamente anche a Zemelo. Quindi un'ottima storia sicuramente, che ripeto, è importante soprattutto perché ci mostra un topolino, vittima degli eventi, e quindi anche spaventato. Ricordo una vecchia storia nella fascia 1008, in cui si trova prigioniero in casa sua, ma non cede alla paura, come in questo caso. Pubblicità di Paperino, poi qui abbiamo il... Scusate... Ecco qua. Quindi, Davide Cesarello, che ci mostra come disegnare mini lateralmente, quindi sempre molto interessante, prima o poi bisognerebbe provare. E poi continuiamo con un po' di pubblicità, e poi abbiamo Archimede l'incomparabile Vanni, di Francesco Vacca e Giovanni Preziosi. Allora, questa è una storia che mi ricorda molto alcune apparizioni di determinati personaggi negli anni 90, ossia l'amico occasionale, che immagino non si vedrà mai più, invidioso, che quindi cerca in qualche modo di modificare la sua vita e apparire migliore di quello che si è. Non dico altro. Sono interessanti i disegni perché sembrano come se fossero fatti utilizzando una china molto sottile. Mi ha dato subito questa impressione. Quindi, ottima storiella. Storiella inteso perché è piccola di lunghezza. Quindi l'ho apprezzata. Poi, ecco qua, Panini Tour, che ritorna quest'anno, Lecce, Catania, Napoli, Roma, Pescara, Milano, Torino e Genova. Quindi, chi ci volesse andare, queste sono le tappe. Dal 3 di febbraio al 24, no, al 24 marzo. Poi abbiamo Amelia, la rosa olezzante. Questa è una storia molto simpatica in cui troviamo Amelia alle prese con una pizzeria perché capisce e viene a scoprire che per neutralizzare l'effetto dell'aio nei suoi confronti dovrà per un mese non utilizzare i suoi poteri ed entrare a contatto con l'aio fin quando appunto dopo 30 giorni esso non avrà più effetto su di lei. Quale posto migliore se non lavorare in una pizzeria per avere a che fare con l'aio? E quindi troveremo Amelia alle prese con il piatto tipicamente napoletano, del resto lei lo è. Infatti viene molto esaltato Napoli in questa storia, però poi, come sempre, finirà male per la nostra Amelia. È un'idea comunque originale questa. Ho apprezzato molto che la nostra strega sia utilizzata come protagonista in questa storia ma in maniera un po' diversa dal solito. Quindi una buona storia. Infine, ecco qua, qua abbiamo Fantomius colpisce ancora, quindi questa raccolta di queste storie che troveremo. e poi nella Cina Imperiale, ultima parte della saga delle GM, la ricerca delle pietre, di Bruno Enel e Sandro Perina. In questo caso, i nostri amici si recano nel passato per recuperare la pietra della fortuna nella Cina Imperiale. E ovviamente, quando si parla di fortuna, chi può essere l'imperatore se non un sosio di Gastone? Infatti i stessi nipotini dicono ma in questa storia praticamente i nostri parenti sono ovunque. E quindi anche qui abbiamo il solito tentativo di recuperare la pietra, ma le cose non andranno come pensano le giovani marmotte e come si crede dal susseguirsi degli eventi, ossia che in ogni episodio i nostri amici riescano a recuperare una pietra. In questo caso, le cose vanno in maniera un po' diversa. E non vi svelo il finale perché comunque è sicuramente atipico rispetto a ciò che ci aspettavamo, quindi comunque è originale. Una nota che voglio spendere è sul personaggio di Newton. In questo caso è abbastanza fastidioso, sinceramente. Perché per maloso se la prende perché viene considerato non all'altezza dello zio, uno che fa dei disastri. Non mi è piaciuto molto Newton come è stato caratterizzato in questa storia, ma un motivo c'è. Non voglio dire che sia stato fatto male, però risulta antipatico. Ma probabilmente l'obiettivo era proprio quello. E quindi si è conclusa questa saga in buon modo, nel senso in maniera originale, però come gran parte delle saghe mi lascio un pochettino non scontento, però sono abbastanza perplesso sulle saghe. Diciamola tutta, in generale. Comunque, apprezzabile. Poi un articolo sulle rocce spettacolari, artefatti umani, i moai dell'isola di Pasqua, la piramide del sole a Teotihuacan, Stonehenge, chiaramente anche le piramidi egizie e la Sfinge, le pisse in Nazca, la stella di Rosetta, eccetera, eccetera. Poi, l'angolo dei lettori e poi quest'articolo di Barbara Garufi in cui intervista Francesco Artibani, Licia Troisi e Francesco Di Polito relativo all'imminente ritorno la settimana prossima di Dactopia con la storia di Dactopia che ci svelerà che fine abbia fatto gamba di legno e si parla anche di come abbia nel frattempo metabolizzato questa mancanza Trudi. Quindi è interessante. Questa è la copertina con protagonista di gamba di legno ma con dietro un gigantesco topolino. E poi l'ultimo redazionale dedicato agli occhi degli animali in questo caso sono sostanzialmente insetti o sì cani, aquile e così via. Allora invece per quanto riguarda l'anteprima del prossimo numero la copertina è giusta il problema è che sono sbagliate le storie perché vengono riportate quelle del numero scorso quindi del 3556 sì sull'applicazione ci sono quelle corrette ve le faccio vedere allora il redactopio episodio 1 di 3 quindi una saga in tre parti di Francesco Artibani e Licia Troisi e disegni di Francesco Di Polito Paperino e l'artista in crisi di Giulio Gualtieri e Marco Nucci e disegni di Blasco Pisapia Clarabelle e Rumors del Bosco di Matteo Venerus e Christian Canfail Paperino Jones e la sfida dei biscotti storie e disegni di DG quindi storia estera Paperino in fila per te storie di Augusto Macchietto disegni di Ottavio Panaro zio Paperino e la banconota poco nota di Massimiliano Valentini ai testi e disegni di Danilo Barozzi ecco quindi ci saranno ben cinque storie di cui una puntata ci sta nel senso avere una storia appuntate o una saga all'interno dell'albo ma uno solo è la la soluzione migliore dal mio punto di vista quindi qui rivediamo Bertani che ci anticipa un po' di cose prima di chiudere quindi su questo albo allora Topolino Rumori e il Silenzio è la storia migliore secondo me dell'albo del resto è anche la più grossa la più importante evidentemente ho apprezzato appunto la proiezione di Topolino in un contesto a lui è stranio e che lo rende umano con le sue paure quindi un Topolino diverso molto apprezzato questo poi la storia dei disegni comunque in generale sono ottimi Archimelio l'incomparabile Vanni piccola storia ma sul tema dell'invidia del cercare di emergere nonostante non si riesca a farlo e questo è uno schema che ho già ritrovato in passato ma che ho apprezzato Amelia rosalezzante simpatica rivisitazione del personaggio di Amelia ossia non semplicemente come fattucchiera ma anche come essere umano e quindi comunque è interessante le giovani storie tutte però non ce n'è una che mi abbia particolarmente colpito da esaltarla diciamo buono barra ottimo livello come del resto il Topolino in generale però non è un numero che tra quelli che considererò assolutamente imprescindibile ma questa è un'opinione questo è quanto ci vediamo col prossimo video